La polizia di Bari ha tratto in arresto un 45enne e un 37enne, entrambi baresi con numerosi precedenti di polizia, accolti nella fraganza del reato di rapina pluriaggravata ai danni di un anziano aggredito vicino all'ufficio postale di San Girolamo mentre prelevava la pensione. La vittima, un cittadino baresse di 74 anni, è stata aggredita alle spalle da uno dei due scippatori che dopo una breve collutazione con l'uomo ha desistito ed è fuggito via a bordo di un motorino guidato dal suo complice. Decisiva è stata la reazione della vittima che ha immediatamente allertato il 113 fornendo precise descrizioni dei due malviventi permettendo agli equipaggi della sezione Falchi della squadra mobile di individuare e bloccare i due fuggitivi a bordo del ciclomotore utilizzato per commettere la rapina.